E la sua cugine Sapete, a volte mi è stato detto che me la prendo ingiustamente con la chiesa Che la tratto come se fosse una sorta di attività criminale Il male nel mondo E non è vero che ha fatto questo, non è vero che ha fatto quello Insomma, sono troppo duro con la chiesa E per carità può essere Forse a volte ho esagerato, sono stato troppo provocatorio Ma è il mio mestiere Dicono che gli ho addossato colpe che non ha Magari ho calcato un po' la mano dipingendola immeritatamente come un mostro E allora mi sono detto, facciamo una cosa Chiediamo direttamente alla chiesa Andiamo a vedere tutte le volte che nel corso della storia La chiesa ha chiesto scusa per qualcosa di cui era colpevole Spoiler, per circa 1900 anni la chiesa non si è mai accorta di aver commesso azioni orribili Evidentemente lo spirito santo era distratto Comunque, meglio tardi che mai Vediamo dove ci porta questo viaggio nei sentimenti Questa è Temptation Island Cominciamo, sarà un elenco brevissimo, figuratevi Le prime scuse ufficiali della chiesa arrivano nel 1992 Per la condanna di Galileo nel 1633 Circa tre secoli dopo Ci hanno messo un po' Comunque Papa Voetila si scusa e dice che c'è stata una mancanza di discernimento da parte dell'inquisizione Ma sì, so ragazzi, può succedere, dai E poi almeno a questo ne hanno dato fuoco 1993 Arrivano le scuse per il silenzio durante l'olocausto Come come? Ma allora la chiesa mi sta mica dicendo che quando gli muoviamo critiche per il suo atteggiamento durante il nazifascismo Ci abbiamo ragione noi Giovanni Paolo II dice di sì Riconosce il silenzio della chiesa durante l'olocausto E chiede scusa da parte della chiesa per non aver fatto abbastanza Si poteva fare di più Dai, dai, sarà poi la prossima volta 1995 Arrivano finalmente le scuse per l'inquisizione Una serie di tribunali ecclesiastici istituiti per combattere l'eresia in Europa Attraverso pratiche cristiane Quali processi, torture e condanne a rogo La chiesa ammette che le azioni dell'inquisizione sono state crudeli e ingiuste Chiede scusa per le violenze perpretate in nome della fede Eh, lo so, regà, lo so, regà Ho chiesto scusa Lo sto negando? Lo sto negando? Ho chiesto scusa? Dai, pari e patta Palla al centro Siamo ancora all'inizio e non ne sta uscendo un bel profilo 1998 La chiesa chiede scusa per aver sostenuto i colonizzatori Infatti, durante i secoli della colonizzazione La chiesa è stata spesso protagonista delle espansioni coloniali europee Non solo come missionaria, ma anche come alleata dei poteri coloniali In Africa o in America Latina La chiesa ha collaborato all'oppressione dei popoli nati E nella distruzione della loro cultura Scusate, è stato un periodo un po' così Vedevamo nero Ma mica è finita qua, signori miei Mi voglio rovinare 1999 La chiesa chiede scusa per aver bruciato vivo Gianus O Gianas O Gianos Non ho idea di come si pronunci Teologo boemo che criticò gli abusi e la corruzione all'interno della chiesa Fatto accaduto nel 1415 Oh Gian, scusa, errore nostro, errore nostro Che tocca fa? A volte c'è via così Arriviamo all'anno 2000 Il giubileo La chiesa coglie l'occasione per fare all-in Provando a chiedere scusa per varie atrocità commesse nel passato Dimenticandosene ovviamente diverse Nel calderone ci butta la scusa per le crociate Di nuovo per l'inquisizione Il trattamento dei dissidenti religiosi E l'antisemitismo Più un pizzico di scuse per l'indifferenza verso l'oppressione sociale Cioè, qui c'è da fare un quadro clinico però, eh È chiaro che c'è un disturbo patologico, signora mia Lei non è che ogni tot anni può chiedere scusa per le peggio cose fatte in passato E poi non paga mai un cazzo Giovanni Paolo II poi, con una faccia da culo d'antologia Chiede scusa per l'indifferenza durante la crisi di A.D.S. in Africa Ma fu proprio Giovanni Paolo II ad ostacolare l'utilizzo dei contraccettivi come prevenzione Promuovendo invece la castità Illuminare questo Papa Una mente chiaramente ispirata da Dio Salviamo il popolo africano dall'A.D.S. dicendo a tutti Oh, regà, state buoni, c'ho la soluzione Non scopate, è facilissimo, funziona bene, guardate noi 2001, la chiesa chiede scusa per il silenzio durante e dopo il genocidio degli armeni negli anni della prima guerra mondiale Se eravamo distratti, va bene, può succedere, può succedere Sempre nel 2001 la chiesa chiede scusa degli abusi sia fisici che psicologici per migliaia di bambini britannici Deportati forzatamente in Australia in affidamento a istituzioni cattoliche E se eravamo distratti, può succedere, può succedere Non funziona con questa, eh 2004, la chiesa chiede scusa per la mancanza di inclusione Per avere emarginato per secoli persone con disabilità mentali Io ci aggiungerei anche vessato oltre che emarginato Riconoscendo che anche queste persone meritano rispetto Solo nel 2004 se ne so accorti, eh Ma come lavora il suo spirito santo? Ma che è statale? 2009, questa volta la staffetta della merda passa a Papa Benedetto XVI Che chiede scusa per le azioni della chiesa durante i conflitti civili in Africa Cioè più che della chiesa del sostegno del clero locale a regimi violenti e corrotti Pronta la giustificazione dei regimi violenti e corrotti che rispondono Avevamo paura a dirgli di no 2010, Benedetto si scusa per l'ostilità della chiesa verso le comunità cristiane scismatiche Quali ortodossi, protestanti Vabbè dai, pace fatta, nessuno tenta più di uccidere l'altro, ok? Siamo una religione di pace e amore 2013, Benedetto era uno che coescusa e ce faceva poco Si passa subito a Papa Francesco che chiede scusa per la complicità della chiesa Durante la tratta degli schiavi, America Latina e Caraibi E per la sofferenza afflitta ai popoli nativi Scusa è già similmente espressa in passato Direi che l'avete fatta bella grossa per tornarci sopra, eh 2015, la chiesa chiede scusa per aver alimentato inemicizia tra i popoli cattolici ortodossi e musulmani Durante la guerra nei Balcani La chiesa chiede scusa anche per la complicità di alcuni preti con i regimi nazionalisti religiosi Quindi sta chiedendo scusa per essere stata la chiesa Papa Francesco chiede scusa anche per la conversione forzata E l'oppressione al popolo filippino durante la colonizzazione spagnola Riconoscendo che la diffusione del cristianesimo sia stata accompagnata dalla violenza Ma dai! E noi tutti che pensavamo che il cristianesimo si fosse diffuso Spargendo petali di rosa profumati Pazzesco! 2016, Papa Francesco dichiarò che la chiesa avrebbe dovuto chiedere scusa Alle persone omosessuali e per il modo in cui sono state trattate Nel 2024 lo stesso Papa dichiarerà che non è bene accogliere gli omosessuali in seminario Perché c'è troppa fraggine Devo dire che la chiesa mi ha sempre colpito per la sua capacità di cagare in testa alla coerenza In maniera completamente disinvolta 2018 il Papa chiede scusa per le vergognose pratiche della chiesa Che mise in atto nei confronti delle madri single Sia in Irlanda che in Spagna Ma soprattutto nei confronti dei loro figli Stiamo parlando di migliaia di casi di abusi Ma anche di figli strappati alle madri che li avevano appena partoriti Proprio oggi arrivano le scuse del Papa per le stesse pratiche Questa volta ubicate in Belgio Di tutti questi casi ne ho parlato in un vecchio video Andate a recuperarlo 2019 la chiesa chiede scusa per le numerose suore abusate Da parte di membri del clero Spesso abusi che hanno portato a gravidanze indesiderate Gravidanze a cui si è rimediato ricorrendo all'aborto Che evidentemente è peccato solo per gli altri Tra le varie scuse negli anni troviamo quelle per il rogo fatto a Giordano Bruno Le scuse per le vicinanze al fascismo Le scuse per la discriminazione delle donne Le scuse per la repressione della libertà di pensiero Le scuse per le conversioni forzate degli ebrei E chissà quant'altre scuse mi sono perso e dimenticato Anzi se pensate che questo elenco deve essere completato Suggeritemi altre scuse qui sotto nei commenti Ah e dato che è stata maneggiata a quelle parti Mettete un mi piace al video E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi Per supportare il canale in maniera gratuita Altrimenti mi aspetto le vostre scuse Puoi anche abbonarti a solo l'euro e 99 al mese Per vedere i video in anteprima È il podcast esclusivo per gli abbonati Popcast È uscita solo una puntata Ma ottobre esce la seconda In queste numerose scuse fatte negli anni dalla chiesa però Non si è quasi mai rivolta alle vittime Il perdono lo chiedeva a Dio Vi ricordate il discorso che abbiamo fatto sul video di Elisa Claps? No, andate a recuperarlo Difficilmente i peccati venivano inquadrati in chiesa come istituzione Più chiesa come comunità di persone È a quei singoli gruppi che spesso venivano indicate le colpe Senza però mai fare nomi di responsabili È tutto un po' generico E poi parliamo sempre di peccati commessi nel secondo millennio Anche perché dei pagani massacrati nei primi secoli sti cazzi Spesso si è chiesto scusa per i mezzi impropri utilizzati per i giusti fini A questo punto però ci tocca obbligatoriamente fare una riflessione Ma se per secoli e secoli, come la stessa chiesa ci conferma È stata percorsa la strada della violenza, dell'abuso, della colluzione politica Della corruzione, della sovraffazione, della tortura, della guerra E chi più ne ha più ne metta Senza dimenticare le conversioni forzate Come cazzo è possibile che ancora permettiamo a questa organizzazione Non dico solo la legittimità di esistere Ma anche di farci la morale Di indicarci la strada giusta Li infiliamo nelle commissioni che parlano di etica Esiste il reato di apologia del fascismo Per i danni che ha fatto La chiesa nonostante ha fatto molto peggio e per molto più tempo è ancora lì Tutte queste scuse che abbiamo sentito Sono arrivate solo dopo una presa di posizione e di coscienza da parte della società Non sono mai state spontanee frutto di un'introspezione Servivano solo a salvare le apparenze quando non era più possibile nascondere Ancora oggi quando può la chiesa gioca ai quattro cantoni con i predi pedofili Ancora tace e nasconde se può farlo Nega per salvare la faccia e non chiedere scusa Come per Emanuele Orlandi Come per Elisa Claps Ed altri casi ancora Tra qualche anno ci sarà qualche altra scusa E così via nei secoli dei secoli Senza che mai nessuno si prenda le responsabilità E paghi per tutto il male Provate solo a immaginare quanto tutto questo nei millenni Abbia causato una catena di sofferenza e malessere Di male, di dolore Che si è trasferito di generazione in generazione Per questo dico che l'umanità soffre di sindrome post-traumatica da abuso da religione Se questa è la chiesa che il vostro salvatore Gesù Cristo ha voluto Siete proprio sicuri che sia morto e risolto per salvarci? Se doveste chiedermi qual è il dono che ha fatto Gesù all'umanità con la sua venuta Senza ombra di dubbio risponderei Un cancro Un cancro terribile per l'umanità Amen Grazie 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 Grazie